Intervento dei Vigili del Fuoco di Rivarolo Canavese, oggi sabato 3 marzo, poco prima delle 16 in via Pietrovota a Rivarolo. L'allarme è scattato per un principio di incendio alla veranda di un'abitazione. All'arrivo dei Vigili del Fuoco il rogo era già quasi del tutto spento. I lesi residenti che sono stati comunque controllati per precauzione dalla Croce Rossa giunta sul posto. Grazie per la visione!